Allora sono qua con la ruota dentata e innanzitutto questo 115H8 in realtà essendo un maschio questo deve essere H minuscolo, questo è importante, assolutamente H minuscolo, non può essere H maiuscolo. Poi questo qui assolutamente non può essere quotato qua, questo deve essere assolutamente cancellato, qui andiamo anche, perché è assolutamente anche questo. Poi non facciamo così qua, ma andiamo qui, andiamo a fare ottimizzato e andiamo a fare così, ce lo ricordiamo, maschio e andiamo così, l'importante è che sappiamo che quello maschio, ok, H8 deve entrare in una femmina, ok, e per forza che è maschio, lei si. A questo punto qui io non posso mettere smussi non quotati 2x20, perché io devo quotare così, devo quotare da qui a qui, però poi questo qui, perché il 20 bisogna indicare da che parte è, ok, infatti se io vado qua, anche se non si prende questo qui, poco importa, noi possiamo andare a tirare, imbrogliamo un attimino, andiamo a prendere da qui a qui una riga, mettiamo, che ci farà da riferimento, ok, dunque da qui a qui, e vado a fare così, difatti questo è un 70.4, dunque questo bisogna farlo diventare 20, ok, e bisogna quotare così, in modo più, naturalmente più elegante rispetto a quello che ho fatto io, però bisogna quotare così, a questo punto lo smusso 1x45, qua lo elimino e lo metto in smussi non quotati 1x45, ma qui non posso, se lo faccio di 20, 25, 30, non posso fare, se no lo faccio di 2x45, facciamo 2x45, va bene anche 2x45, ok, e poi a questo punto qui io potrei fare una cosa del genere, anche che mi risulta magari più una cosa così, perché l'altro non mi piaceva, anche se, va bene, facciamo così, o se vogliamo essere, portiamo questo qua, qua, e portiamo questo qui, in modo che sia allineato, preferisco di là, però, d'altronde, va bene che c'era quella possibilità, però adesso non mi ricordo di, non mi ricordo più, vediamo se, c'era quella possibilità, ma devo fare un video perché, sinceramente, non me lo ricordo più, che si poteva interrompere, però non ricordandomi più, non riesco, dunque, io a questo punto farei così, che sono anche vicini, a mio avviso è anche più chiaro, ecco, e allora io metterei a posto così, e va bene, va bene, dunque, maschio, e poi cosa abbiamo detto, gli angoli, più che gli angoli lo smusso, e mi manca una quota sulla larghezza, ok, mi manca questa quota qui, questo 24, non si può quotare qua, assolutamente, è vietato, assolutamente, e poi mi serve, no, la localizzazione l'abbiamo trovata qua, è sul piano intermedio, siamo a posto, questo l'abbiamo quotato, questo, sì, questo qui, è il 55, che poi alla fine questo qua, conveniva quotarlo qui, però va bene, uguale, sì, perché poi alla fine tutti questi denti non mi servono, quello che mi serve, e questo era assolutamente, la serie della lingua età, poi potevo anche mettere tutto qui, tranne diciamo, vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.